good morning anche se direi più un pomeriggio perché praticamente sono praticamente due meno dieci mister master maestro o semplicemente o semplicemente david january five tutta 22 and it's a wednesday in naples 62 fahrenheit around 17 celsius this means that non è quella giornata veramente 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 fredda con questi giorni in questo periodo ma sì mi dire siamo anche un poco più sopra della media comunque in generale come dico sempre io invito sempre a vedere il video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa perché non è per capire perché non sento il freddo più di tanto come detto separo sempre il video dal report dal video sul pensiero sui pensieri anyway as you just see from the window da questa e soprattutto dall'altra inquadratura come vedi adesso so today we have today we have dopo finalmente i primi quattro giorni di buio those beautiful blue skies and golden sunshine and i think yes i think all along the way fino a quando non sopraggiungerà la sera eccetera tra diciamo qualche ora bene così che non c'è nulla da dire say that this so from the mythical window sublime oggi nulla da dire e Roller Shooter behind me, on the top, over a really shot and finally from a mythical keyboard, the Amadi GX 640, IPG 625 Ev, a great day in all the people, follow the channel and the reports, si mi raccomando video sui pensieri separato da questo, si un saluto davanti a tutti, so again a great day in all these people and everyone too